Continuo l'avventura della buba su FC24, riuscirò ad arrivare a Real Madrid? Ma io da che parte devo tirare? Sempre in là Siamo carichi per il primo tiro! No Brava, tiro a giro! L'ho fatto apposta! Cioè non è possibile che io faccia tutti questi gol Di testa! Gol che hai fatto? Sono fortissima! Sbang! Ma che forti no! No, lo so, lo so, lo so Stucca! Oh, l'ho mandato al bar! Oh, chiudete l'internet! Ha fatto un gol incredibile la buba! Le ho schivate tutti! Che peccato! Ma le para tutte! Terribile, c'è da La si è fatto davvero bene! Hai fatto colpo! Oh! Real Madrid? Sì, ho fatto colpo a Real Madrid!